Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene e che stiate trascorrendo una splendida giornata. In questo video voglio parlare di un calciatore brasiliano classe 1998 del Midtland che, stando anche le ultime dichiarazioni, si sente pronto all'assalto di qualità. Già in passato questo giocatore era stato accostato da Juventus esattamente nel 2018, ma poi non si fece nulla perché passò impresso dal Vasco da Gama, appunto, ai danesi del Midtland. L'estate scorsa, invece, sembrava quasi fatta il suo passaggio dal Midtland all'Inter di Miami per una cifra attorno ai 7,5 milioni di euro più 2,5 di bonus e il 15% avuto a rivendita, però poi non si fece alla fine nulla. Fatto sta appunto che il giocatore ha dichiarato anche a tuttomercatoweb.com che si sente pronto per questo salto di qualità. Ma di chi stiamo parlando, ovviamente, l'avete già capito dal titolo del video, quindi Evander, appunto, classe 1998 brasiliano che gioca ad ora nella Superliga. Prima però che non c'è la questione di parlare un po' del giocatore e dei potenziali sviluppi di mercato, mi raccomando, scelte un lecco al video, iscrivetevi al canale, attivate la campione delle notifiche. E rimane sempre aggiornati sui news del canale in tempo reale. Ma allora parliamo del giocatore, 179 cm, centrocampista centrale, naturale, diciamo così, ma che ha giocato molte volte anche come trequartista, raramente da mediano. Però può essere definito quasi un ombre verticale della società scandinava. Appunto, 179 cm, di una fisicità non particolarmente aitante e ha una muscolatura un po' simile a quella di Ilicic. Vai a dire queste gambe molto affusolate, lui è un ormolineo, che lo rendono molto imprevedibile, soprattutto in fase di dribbling. Infatti ha veramente una grande mobilità e agilità degli arti inferiori in fase di dribbling. Se sullo stretto, che magari andranno a superare l'avversario sul lungo. Dotato di un'ottima velocità, diciamo, o meglio, di una buona velocità e di ottima tecnica di base. Anche un po' funambolico, perché non è raro vederlo tentare un dribbling quando è marcato. Oppure magari, quando è uno contro uno, tentare il colpo, diciamo, la mossa, dai virgoletti, di usare il colpo di tacco, per passarsi la palla sul lato sinistro, per poi superare l'avversario. Un giocatore che è anche abbastanza completo, appunto, può ricoprire più ruoli. Poi vedremo anche magari qualche statistica, o meglio, più che più ruoli. Può, in base alle sue caratteristiche, offrire degli aiuti diversi alla squadra. Sia che giochi come mediano, che come centrocampista centrale, che come trequartista. Un prospetto molto interessante che ad ora, secondo me, soprattutto dopo l'ultima stagione, il suo volo di mercato, secondo me, si è anche abbastanza alzato. Cresciuto nel Vasco da Gama, passato nella stagione 18-19 in prestito nel Vasco da Gama, appunto, al Midland. Poi, nell'estate 2019, è stato riscattato per una cifra attorno ai 3 milioni di euro. E ora, soprattutto dopo le ultime due stagioni, le sue prestazioni, il suo volo di mercato, appunto, è cresciuto. Un giocatore che per il primo anno in Danimarca, qui nella stagione 18-19, ha vissuto un pochino un momento di adattamento, ovviamente. Perché comunque, d'accordo, il campionato anese non è uno dei top campionati a livello europeo, però, viste, insomma, le evoluzioni, anche tattiche e metodologie di lavoro dei club scandinavi, insomma, la differenza tra la Superliga e, faccio un esempio, la Juppie Lear League del Belgio, non è poi così più tanto evidente. Però poi, appunto, negli ultimi due anni, anzi, negli ultimi tre anni, si è proprio garantito la titolarità nel 3-4-2 di Boenriksen, che è il manager del Mittyland. E qui veniamo un pochino a un discorso più tattico. È appunto un centrocampista centrale che fa dell'inserimento la sua priorità e che, soprattutto, sa creare superiorità numerica, perché, essendo abile a saltare l'uomo, gioco forza che alza la squadra, sorpassando ogni è di gioco, e magari velocizzare anche lo sviluppo della manovra offensiva. È bravo sia in fase di assist e discretamente anche in fase di conclusione, sebbene possa migliorare da questo punto di vista, tenendo conto che comunque anche il rigorista è la squadra. Però, insomma, in quattro anni, aver ragranellato 138 partite, 39 gol e 28 assist, non è assolutamente poco per un giocatore del genere. Un giocatore che, negli ultimi due stagioni, si è un po' evoluto tatticamente, perché prima magari aveva più compiti offensivi, mentre adesso, in questo 3-4-3, appunto, il Mittyland ricopre un pochino il ruolo di centrocampista centrale, di inserimento, ma anche di equilibrio. Vedendo anche un po' le statistiche, è un ottimo grossatore, è un giocatore che vince anche un buon numero di tackle, quindi se abbinare sia il discorso di interdizione e quell'impostazione, ma soprattutto questa caratteristica è stata, diciamo, educata in questa stagione. Mentre nella stagione 20-21, e ancora di più, nel 19-20, soprattutto nel 19-20, era un giocatore che tentava molti più cross, ma anche molti meno intercetti. Se andiamo a prendere, poi, i numeri, delle statistiche, appunto, tra, soprattutto, i falli guadagnati e i falli commessi, più o meno la proporzione è 1-1. Questo fa capire, appunto, che il giocatore, tanto quanto è abile a superare l'avversario e subire fallo in zona offensiva, quanto è anche abile, comunque capace di intervenire, commettendo anche falli, ma è giocoforza priorità del ruolo, prerogativa del ruolo, sa anche, appunto, rubare palla. Sa usare discretamente bene il fisico, unici due punti deboli, allora, sa usare poco il sinistro, e questo ripeto sempre, che comunque nel calcio moderno saper usare entrambi i piedi è una cosa, diciamo, un quid in più, perché comunque hai più varietà di gioco, ti prendi un guadagno un po' più punti nell'imprevedibilità. Altra cosa, che nelle situazioni un po' complicate, se ha degli scarichi, a volte tende un pochino essi in amato il pallone, quantomeno usa poco la visione periferica. Allora, tende un dribbling, tende due, che magari poi gli riesce anche, però capite bene che gli può uscire in una Superliga, ma quello dovesse venire in una Serie A, che il pressing è molto più importante, con giocatori di fisicità molto più importanti, soprattutto a livello muscolare, non tanto di altezza, capite bene che potrebbe essere un rischio perché magari potesse anche andare a perdere palla, quindi già lui ha buona visione di gioco comunque, soprattutto quando deve passare sulla media distanza, magari se si trova un po' decentrato con l'esterno che si va a inserire sulla fascia, lui sa trovare il momento giusto per passare il pallone e non far andare l'avversario in fuori gioco, il compagno di squadra in fuori gioco. Però giocoforza deve migliorare da questo punto di vista, cioè la visione periferica non può limitarsi soltanto a fare il passaggio in profondità, bensì anche quando si sciparla in fase difensiva, devi sapere se magari alberga sul braccetto, al centrale, o al compagno di reparto. Come valutazione, più o meno io penso che meno di 13-14 milioni non lo prendi, magari può andare un pochino a trattare con il Mittyland, che non è assolutamente una bottega molto cheap, magari va a trattare un pochino sulla parte fissa, magari sui bonus, la futura di vendita, come fece anche l'Inter di Miami, però ecco, vuole complessivo 14 milioni di euro, magari con 8-9 milioni di parte fissa e con i bonus e con le percentuali magari potresti anche prendertelo. Per chi lo vedo adatto? Giocando come centrocampista in un 3-4-3, in primis lo potrei vedere tranquillamente adatto per quei moduli che contemplano comunque questo centrocampo a 3 e 3 in avanti. Mi viene in mente anche il Torino. Il Torino perché? Lui in questo caso potrebbe ricoprire due ruoli. In primis il famosissimo trequartista tattico, come definisco io, quindi il trequartista non alla Brecalo, che magari fa un po' da cerniera tra centrocampo attacco. Anche perché lui, a differenza soprattutto di Lukic, fa un pochino a volte lo stesso gioco, però c'è il discorso che lui è un po' più offensivo, nel senso sfrutta un pochino di più gli spazi che si vengono a creare. Quindi, sia dal punto di vista sostituto di Lukic, per dirla, quindi come centrocampista centrale nel 3-4-2-1 di Ulrich che come uno dei due trequartisti nel 3-4-2-1 di Ulrich potrebbe essere veramente una pedina importante. Ovviamente se l'ho cercato anche dal Sassuolo bisogna vedere o meglio ovviamente e se l'ho cercato anche dal Sassuolo quindi bisogna vedere cosa poi si farà contro il Re ad esempio che sembra nel Mila del Napoli. Certo che quello dovesse partito il Re magari tu vai a prendere un giocatore come Evander lo metti lì su a trequarti ecco che anche in questo caso può farti un pochino da spola quindi se in fase di possesso palla che di non possesso palla può garantirti questa varietà tattica. Queste due squadre possono secondo me sborsare questo tipo di cifra non lo vedo magari per squadre come come Lazio come Fiorentina perché magari è un po' troppo prestino quindi un anno d'apprendistato in un Sassuolo che magari va anche meno da Fiorentina però ecco coccola i talenti in modo diverso o magari al Torino potrebbe essere una cosa molto 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 interessante stiamo a vedere come va a finire perché ripeto il giocatore si dichiara pronto a essere si dichiara di essere pronto al salto di qualità vedremo se questo salto avverrà in Serie A fatemi sapere qui sotto in descrizione se magari conoscete già il giocatore se lo prenderete o se no e dove lo vedete in tal caso in caso contrario nel senso se volete fatemi domande anche sul giocatore non ho problemi a rispondere mi raccomando se il video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un like al video iscrivetevi al canale ti fate campanile dei notifichi per rimanere sempre aggiornati in tempo reale sulle news del canale vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video